oggi stasera proviamo il riporto ad un cuccioletto di quattro mesi con una star con l'ausilio di un cane esperto adulto in modo da scaturire un po di diciamo così bravo 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 bravissimi bravo 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 allora tu non hai bisogno del cane riproviamo e poi basta si va bravissimo bravissimo bravo 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 bravo